musica 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 ah la bomba ce l'ha una persona abbiamo capito che la faceva in un area no 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 ce l'ha addosso una persona quindi quello lì se ne deve armiare più montano possibile non ninja pullato 3 2 1 levatevi da quelle pozze ok add in 5 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 6 6 6 6 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 6 6 6 7 8 7 8 9 9 9 9 10 9 10 9 un po io al prossimo ok, lo puro io ok ci bisogno adesso quanto fa schifo sto botto vabbè va tagliata ragazzi va tagliata è interromp sembrava impossibile ragazzi perchè occhio c'è la fase veloce ho fatto tutto quello che fa anche ragazzi spostate veloce vai prendilo c'è da c'è da io tutto è così veloce è così coo cana me Non c'è me... Non c'è me fai il nome Che se fai... C'è me fai... Fai il cielo Non fai questo Non fai il giallo Perchè il giallo di quelli ad veloce te l'ho preso a 4 che sta lì ok silenzio 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 si si sono silenzionato dai picchiate le moto ce l'ha dopo a finire la cosa bastava che dicevi andate sul boss e poi quando escono gli altri andate silenzio oh i got the mysterious cube ah si è l'incluso si ve ne spiego ok buonanotte te l'hai? si devo andare becca domani vai e sta roba e bene se ti serve qualcosa comunque